Nello scorso video abbiamo visto una tabella di repilogo che ci permette di scomporre un qualsiasi polinomio. Se non avete visto il video andate a recuperarlo perché è una linea guida per scomporre un qualsiasi polinomio. In questa lezione iniziamo ad effettuare degli esercizi svolti sulla scomposizione di polinomi. In particolare vedremo un esercizio. Supponiamo di avere 4x al quadrato y meno x al quadrato y al cubo. Come al solito dobbiamo prima verificare se è possibile effettuare il raccoglimento totale. In questo caso è possibile. Infatti se noi andiamo a mettere in evidenza x al quadrato y il tutto si svolge. Infatti mettiamo in evidenza x al quadrato y che sono i fattori in comune considerando il massimo comune divisore. Infatti ho preso x con l'esponente più piccolo che è il quadrato e la y con l'esponente più piccolo tra 1 e 3 che è 1. Adesso prendiamo tutti i monomi e li dividiamo per il monomio considerato. Quindi 4x al quadrato y diviso x al quadrato y diviene 4. Poi qui abbiamo il meno. Qui abbiamo meno x al quadrato y al cubo diviso x al quadrato y diviene meno y al quadrato. Beh, la scomposizione non è finita. Perché? Perché nella parentesi abbiamo un binomio di secondo grado. Io vi ricordo che una scomposizione è andata a buon fine nel momento in cui abbiamo tutti i polinomi di primo grado. oppure abbiamo dei monomi. In questo caso abbiamo un monomio e un binomio però di secondo grado. Beh, questo rappresenta appunto un binomio quindi potrebbe essere, visto che non è possibile effettuare un ulteriore raccoglimento totale, potrebbe essere la differenza tra due quadrati. E infatti è così. Infatti 4 è il quadrato di 2, y al quadrato è il quadrato di y. Quindi che significa? Che lo possiamo scrivere come somma delle basi per la loro differenza. In definitiva, questo polinomio lo possiamo scrivere come x al quadrato y che moltiplica 2 meno y che moltiplica 2 più y. In questo caso la scomposizione è andata a buon fine in quanto abbiamo soltanto dei binomi di primo grado. E' ovviamente moltiplicato per un binomio, per un monomio di secondo grado. Anzi, in realtà è di secondo grado rispetto alla x ed è di primo grado rispetto alla x. Una cosa importante è avere soltanto dei monomi oppure dei polinomi tutti di primo grado. Con questo video abbiamo terminato. Come al solito il video è successo metto un mi piace, commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video.